Ciao a tutti, allora video di prodotti finiti che anche se sembra vuotino il sacchetto in realtà ci sono cose dentro cose succose che richiedono un sacco di tempo per essere finite di solito quindi cominciamo allora dischetti ovali di cotone quando è in realtà le ho prese solo perché stavano in offerta ah, tutto quello che ho addosso lo vedete nel video Get Ready With Me precedente quindi lo trovate lì questi dischetti qua di solito non li compro, prendo i quadrotti se proprio devo comprarne alcuni ma erano in offerta questi e effettivamente erano più convenienti quindi ho preferito prendere questi buoni ma preferisco i quadrotti non ho mai capito se ci fosse una reale differenza tra questi e quegli altri quelli sono più, ce ne sono di più come quantità quindi convengono di più bifasico di Garnier, questo io lo ricompro assolutamente, l'avevo già comprato e finito se dovesse avere bisogno di un bifasico perché per esempio ho delle acque micellari da smaltire per esempio sul viso ma sugli occhi preferisco sempre un bifasico, è assolutamente questo straconsigliato è quello che è appunto blu e trasparente quindi un bifasico normale senza dubbio uno dei migliori bifasici che abbia provato ancora meglio di questo sicuramente quello di Natura Equa, la Moringa di Clinique, ce ne sono anche altri ma questo per la reperibilità e il costo assolutamente ve lo consiglio non è proprio per essere Garnier economicissimo però questo è 200ml quello viola che pur mi piace ma questo mi piace di più è più piccolino quindi finisce ancora prima questo invece dura un po' di più poi saponetta, saponetta al carbone attivo di Equilibra in realtà non è finita nel senso che la sto usando ed è nel portasapone però la sto usando già da un po' mi piace molto il profumo, è fantastica per pennelli e spugnetta che è praticamente il motivo per cui la uso più spesso pensavo fosse più delicata, l'ho provata solo una volta per il viso ma io uso altre cose, non so quanto costi quindi effettivamente non so se valga la pena usarla solo per comprarla apposta per pennelli e spugnette devo andare a vedere il prezzo nel caso sinceramente mi piace molto per quello scopo lì più di quella della Nav che è comunque sicuramente più economica e mi ci trovo anche bene ma questo vedo che tipo il fondotinta sulla spugnetta lo scioglie in un nanosecondo quindi da quel punto di vista sicuramente la preferisco poi ho terminato l'ennesima confezione di ricariche Wilkinson Hydro Silk dentro ce ne sono tre, questa è la metta della vita io le amo, sapete inizialmente le avevo ricevute dall'azienda ma continuo a comprarle io, adoro questo è in assoluto il miglior rasoio che abbia provato ha superato il mio amatissimo, dopo 15 anni, il mio amatissimo Gillette Venus quindi figuriamoci non mi ricordavo di aver usato questo tra l'altro ho anche appena ricomprato vabbè, questa tinta di palette Schwarzkopf palette testa nera 3.1 quest'anno scuro che ho usato solo per la ricrescita l'ho appena ricomprata perché l'avevo trovata in offerta tipo a 3,45 euro però sinceramente mi sa che la prossima volta mi ricompro quella di cosa di Vella della Colestone perché oggettivamente dura di più al di là della ricrescita io noto che nella zona non di capelli bianchi di ricrescita secondo me è sbiadita ho questa impressione questa è strano perché di solito con quella di palette mi sono sempre trovata bene ma io ho sempre fatto il nero di questa marca quindi il castano non conoscevo bene quindi stavolta l'ho ricomprata vediamo se è stata una cosa occasionale o è un problema di questa tinta però sicuramente la prossima volta compro la Colestone tanto sì la pago un pochino di più perché comunque con un tubetto da 10 euro la faccio due volte questa alla fine era in offerta a 3,45 euro l'ho usata tutta l'avrei potuto usare in due volte però metà era poca e tutta era troppa quindi alla fine vabbè è andata così poi vi faccio vedere questa anche se ce n'è un pochino ma mi sa che la finisco stasera credo l'acqua micellare di Origins della linea Mega Mushroom Skin Relief questa acqua micellare è una assoluta bomba penso sia se non la migliore tra le migliori acqua micellare che abbia provato è l'unica che sugli occhi secondo me è quasi come un bifasico dico quasi ma secondo me è praticamente come se fosse un bifasico tanto che è efficace sugli occhi meravigliosa casomai stasera nel video che voglio vedere stasera vi faccio vedere un po' sugli occhi come si comporta anche se ho anche un trucco importante quindi magari non la userei in queste occasioni però magari stasera la faccio vedere come ultimo utilizzo all'azione in quel senso lì mi sa che devo caricare un pochino la batteria che si sta scaricando eccomi qua ho caricato la batteria nel frattempo ho visto il penultimo episodio di Visavi mi manca il finale di stagione e praticamente appena finisco questo video corro a vedermelo perché mi è rimasto mi è rimasto qua che è triste però è sempre triste finire una serie tv perché poi ma va continuiamo ennesimo panno in microfibra vera lab questo ve l'avrò parlato 3 miliardi di volte li prendo sempre quando non li uso più per il viso li uso per la cucina o il bagno per pulire insomma quindi in assoluto i miei panni in microfibra preferiti poi questo me ne ho già parlato ne ho un altro che ho trovato nel calendario dell'avvento di Look Fantastic di Oskia il Renaissance Cleansing Gel è un detergente per il viso in gel rosato ha un colore tipo rosa molto strano molto particolare ma una figata pazzesca purtroppo costa troppo per il tipo di prodotto che è perché adesso non mi ricordo ma più di 40 euro sicuro per un detergente viso è veramente tanto è un tipo di prodotto che si usa è vero che anche il detergente secondo me è il se non il prodotto più importante quasi sicuramente pulire il viso è la cosa più importante di tutta la skin care in assoluto però è un prodotto di consumo talmente diciamo frequente che finisce talmente velocemente che spendere così tanto per un detergente però se ve lo potete permettere provatelo perché è fantastico più che altro tra l'integratore per capelli che ho provato è la stessa marca e questo non vi nascondo che la curiosità di questo marchio è veramente enorme per quanto mi riguarda chissà che non ci sia la possibilità in futuro di provare altre cose magari finiamo con la skin care perché a sto giro abbiamo diverse cose di make up allora questo questo è il gel primer preparatore di face quello che era in dotazione con il con il l'apparecchio questo è da 59 ml ed è un gel quelli che vanno sciacquati adesso sto usando una versione gold cosiddetta che mi è stato inviato la look fantastic ma l'ho scelto io però quando faremo poi la recensione vi parlerò un po' delle differenze di quale prodotto usare come conduttore per il new face al momento vi posso dire che in effetti il suo gel conduttore è il più pratico il più comodo e apparentemente non so dirvi se sia il più efficace perché bisognerebbe fare dei test lunghi con un altro tipo di prodotto senza alternarlo però per il suo utilizzo indubbiamente con il suo gel è la consistenza migliore devo vedere se trovo ho trovato alcune alternative alcune suggeritemi alcune mi sono state suggerite e non mi dispiacciono però al momento effettivamente il suo gel è in assoluto la cosa migliore poi ultimi due prodotti di skin care sono due contornocchi addirittura due perché in pratica le ho usati contemporaneamente mattina questo la mattina e questo la sera mi è capitato di usare mattina e sera questo mi è capitato di usare mattina e sera lui però la sua diciamo la combo perfetta per me era mattina e sera me non ci ha parlato tante volte mi sono piaciuti tantissimo tutti e due anzi Hula Henriksen mi è sembrato di capire perché c'è stata una masterclass che ha fatto il tipo lui in persona a Milano visto che aveva partecipato Carlotta c'era il pandemonium Banana Bright Eye Cream un contornocchi che mi è piaciuto moltissimo perché secondo me mi dava la giusta idratazione ora io l'ho usato praticamente tutta l'estate quindi per il periodo estivo è stato perfetto io notavo proprio la differenza quando usavo lui con i correttori che mettevo sopra sicuramente per me non sarebbe sufficiente da solo per questo vi dico avevo trovato diciamo la perfezione usandolo la mattina perché io ho un contornocchi molto secco quindi ho bisogno di qualcosa di più nutriente e questa cosa assolutamente la faceva lui che è di Paula's Choice della linea Resist l'anti-aging eye cream c'è già che sta giocando con un pirulino quello che chiude il pane voi forse non la sentite ma io sì in assoluto questo è un contornocchi ai peptidi e in assoluto uno dei migliori contornocchi che abbia utilizzato mi sto trovando benissimissimissimissimissimo con quello che sto usando per ora non mi perdete i video relativi alla skin care che se non l'avrò già pubblicato forse forse lo vedrete quindi il video precedente fantastico costa un sacco però è veramente una bomba penso di non aver letto ma è una recensione negativa di questo contornocchi costa sui 40 euro circa adesso non mi ricordo di preciso dipende dal sito ed è 15 ml veramente gran prodotto andiamo al make up abbiamo ben tre mascara comincio da loro perché era da un po' in realtà che pensavo di toglierli da lì però magari gli davo l'ultima botta poi e sono finiti perché sono finiti io ci metto tanto tempo a finire un mascara perché li alterno quindi veramente difficile iniziamo a darmi un ordine di preferenza no perché in realtà sono tutti e tre dei mascara fotonici fantastici ve li faccio vedere tutti e tre insieme allora mi piacciono per motivi diversi questo di MAC questo ce l'ho da veramente tanto tempo ovviamente questo lo conservo perché vale per il back to MAC e tra l'altro ecco purtroppo questo è fuori produzione questo è l'Upward Lush Upward Black so essere fuori produzione però è un mascara con lo scovolino fatto così e devo dire che io non ho notato differenze fra questo e quello di Sephora quindi l'Ultra Gius Girl assolutamente uguali quindi come effetto almeno non ho notato differenze quindi visto che questo è fuori produzione se volete provare questo tipo di mascara o questo tipo di scovolino quello di Sephora è identico perché mi piace perché lo scovolino piccolo pettina bene le ciglia riesce a dare un bellissimo effetto allungante anche abbastanza volumizzante e incurvante e quello di Sephora mi fa la stessa cosa non mi dispiace con lo stesso principio anche quello di Isadora ma meno reperibile se non sbaglio anche Kiko ha una cosa del genere io quello di Kiko però non l'ho provato quindi non vi so dire se mi faccia differenza con questo quello di Sephora poi quello di Pupa l'Explosive Lashes vi avevo dedicato un video è un mascara bomba potrebbe mentre questo potrebbe piacere quasi a tutti certo sono sempre soggettive le cose per carità però quello magari è uno scovolino che più o meno può funzionare su tutti i tipi di ciglia sicuramente questo no perché è un mascara molto drammatico quindi vi deve piacere l'effetto molto drammatico sulle ciglia sottili quindi magari è un mascara che può non funzionare su tutti però è un mascara veramente bomba devo dire che di Pupa ultimamente io sto apprezzando tantissimo e sempre di più l'Only One però lui rimane comunque questo io l'avevo anche ricomprato quindi questo l'ho usato al 2 sicuramente se l'ho ricomprato vuol dire che mi è piaciuto insomma e infine ma non per importanza lui che è il Black Mamba di Mulac che devo dire mi ha rubato il cuore al momento quasi più del Gentleman ma per un discorso di ciglia vi dicevo di ciglia dovremmo parlare magari penso che lo farò nel video che giro stasera ma che voi vedrete prima quindi visto che faccio vedere l'applicazione vi parlo un po' delle ciglia al momento mi piace di più lui rispetto al Gentleman ma per il tipo di ciglia che ho in questo momento però io amo tutti e due mascara di Mulac del Gentleman ne ho usati 3 questo è il primo ma il secondo l'ho già ricomprato quindi mascara consigliatissimo questo è un altro scovolino che più o meno può funzionare su tutti perché è in elastomero però è molto strano perché è tutto a onde anche di questo se non sbaglio c'è un mascara corrispondente tra quelli di me l'aveva detto uno di voi di Kiko di Waiko adesso mi sfugge credo di Kiko ma non vorrei dire una cavolata non l'ho provato quindi non vi so dire se l'effetto sulle ciglia sia lo stesso questo mi fa tutto mi pettina mi incurva mi volumizza fantastico mascara poi ultime 3 cose spugnetta questa è la spugnetta di Mulac che apparentemente sembra quasi cioè sembra integra ma non mi piace per niente perché è tamugna come dicono a Bologna cioè anche se la adesso se la lavo eccetera è come all'inizio mi piaceva a un certo punto è come lo stesso scherzetto che fanno quelle di Real Techniques perlomeno quelle ultime che ho provato io perché sapete queste cose che cambiano negli anni sono un po' cambiate anche la Beauty Blender all'inizio era diversa vabbè lavandola non si ammorbidisce rimane tamugna e non mi piace adesso ormai uso solo le Emax Design quindi per me è finita lì il campioncino che vi avevo fatto vedere del fondotinta di Natasha Denona si chiama ma l'ho dimenticato di nuovo Transform Matte se non sbaglio non mi è piaciuto per niente è un fondotinta troppo che io sento troppo sulla mia pelle mi segna anche le cose che normalmente non mi segnano non è perfezionante non è bruttissimo però per quanto riguarda le mie aspettative dei fondotinta quello che adesso mi piace da un fondotinta quello non lo fa e infine l'ultima cosa sempre di make up di Revlon Colorstay 2 in 1 Angled Cajal questi sono dei prodotti che non ho mai visto da nessuno sinceramente io li avevo presi tanto tempo fa ancora lavoravo in negozio quindi veramente tanto tempo fa ne ho due questo che è finito e l'altro quello verde questo è Fig che dovrebbe essere tipo un color forse ancora si vede sì dovrebbe essere tipo un borgogna scuro in realtà sembra più grigio che borgogna io lo usavo nella rima interna in maniera fantastica ha un'ottima durata nella rima interna dall'altra parte c'è il pennellino che non è neanche male se volete usarlo sfumato mentre qua è fatto così ha la punta piatta è sottile è obliqua devo dire che è un gran bel prodotto stavo valutando se prenderlo nero perché per come si comportava nella rima interna mi fa desiderare di provare anche quello nero che magari dovrebbe se è un nero intenso ma questo non lo so perché credo non averlo neanche a me provato perché ero più incuriosita da quelli colorati ma è veramente un bellissimo prodotto di Revlon non è waterproof però non che io ricordi perlomeno però ha una bella durata nella rima interna della linea Colorstay la linea Colorstay di Revlon è quella che per antonomasia dovrebbe essere a lunga durata ed effettivamente dei prodotti che ho provato dalla linea Colorstay fino adesso è sempre stato così bene io direi di ho finito e noi ci vediamo al prossimo video corro a vedermi il finale di stagione di Visavi tra l'altro non ho idea neanche se abbiano previsto una continuazione dall'altro spero di sì dall'altro un po' mi spiace perché quando delle serie vengono tirate per i capelli devono essere veramente bravi a prolungarle farle durare tanto comunque chiudo qua ci vediamo alla prossima ciao ciao